Belen porta su una giostra la sorella Cecilia, è tutto da ridere, lei ha veramente paura e urla. Sì, è tutto da 360 gradi. Oh, il mio è la p***a madre! No scuola! Che di p***a! Mentre Cecilia urla come una pazza, Belen Se la ride, ma se la ride di vero cuore Siete strepitose